mecenate mecenate mecenatismo qual è la differenza con una parola mecenate stiamo parlando di di un personaggio realmente esistito curava le pubbliche relazioni di augusto finanziava artisti pittori poeti per curare l'immagine del primo imperatore di roma otteviano così Virgilio realizza le neide per dare lustro alla famiglia di otteviano questo aveva lo scopo di consolidare giustificare il grande potere del primo imperatore di roma da questo nome proprio nasce il termine mecenate mecenate colui che favorisce attraverso la sua opera gli artisti che finanzia nella loro produzione di opere d'arte mecenatismo è un termine preferito a questa opera di favorire l'arte micenate 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 micenate